dal 3 all'11 dicembre torna l'artigiano in fiera alla fiera di ro a milano l'occasione per visitare moltissimi stand quest'anno saranno davvero tanti per circa 80 paesi di tutto il mondo che portano a milano il meglio delle loro produzioni artigianali l'ingresso è gratuito come sempre previa la registrazione sul sito ed è quindi una bella occasione anche tenendo conto dei prossimi giorni con alcune festività è un ponte di mezzo per poter trascorrere piacevolmente parte del proprio tempo all'interno del padiglione della fiera di milano e visitare stand di artigianato di buona qualità confartigianato è tra i promotori di questa iniziativa anzi in questo triennio il sottoscritto ricopre anche il ruolo di presidente del comitato direttivo di questa manifestazione che come dicevo attira espositori da tutto il mondo attira visitatori ma soprattutto per noi l'occasione per ribadire l'importanza dell'artigianato di qualità in diversi settori dall'alimentare all'oggettistica all'arredo per la casa al vestiario la moda insomma troverete tante occasioni anche per poter pensare ai regali di natale oltre che acquistare beni o prodotti che siano di utilità comune dicevo è questa però soprattutto l'occasione per noi per ribadire come sia importante cercare soprattutto in questo momento di valorizzare l'acquisto diretto dai produttori possibilmente italiani ma in questo caso provenienti da tutto il mondo che portano beni manufatti che hanno il requisito quasi sempre della unicità del fatto a mano del fatto su misura del fatto bene soprattutto per il consumatore finale è quello che noi durante tutto l'anno andiamo sostenendo cioè la opportunità anche per il consumatore che vuole spendere bene i propri denari di rivolgersi a imprese artigiane che garantiscano quindi l'origine del prodotto il fatto che sia realizzato in maniera etica sia dal punto di vista dell'impiego delle risorse umane ma soprattutto anche dell'impiego di beni e di materiali per così dire sostenibili quindi una vetrina che in questo momento particolare di riorganizzazione delle grandi filiere del commercio internazionale e di ritorno anche alla riscoperta dei delle botteghe di vicinato e delle produzioni più tradizionali che caratterizzano anche la nostra economia può fare bene sia appunto perché sostiene dei produttori che rispondono a questi requisiti sia perché garantisce l'acquirente il consumatore finale quindi ribadisco il richiamo al fatto che per una settimana sarà possibile visitare questi padiglioni sono oltre 2000 come dicevo gli espositori che vi troverete credo che ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le tasche soprattutto